che vedo che si è piantato ha preso la curva è il primo che vedo oggi sembrava che non era di quei buoni porcini infatti vicini sono gli altri ho girato con una scarpa è un bel porcino vediamo a casa questo secondo bello piccolino l'ho visto perché ha tirato attenzione con la cappella dell'altra parte adesso poi vado a vivere questa qui è bella vicino non vedo niente altro abbiamo due carini infatti è un porcino ma guardate che rosso non è tutto marcio devo rompere un pezzo di cappella a vedere infatti è un porcino ma guardate che rosso così sono venuto qua sette giorni e 31 sono venuto 31 maggio ultima volta vabbè non credo che sia buono vabbè peccato qua non vedo nient'altro finito lì qua me ne sembra un altro per dire così non è buono lo prendo no l'altro è buono mi sembrava che era camolato ma no un altro solitario questo è un posto che a volte non c'erano da uno ne avevo dieci adesso qui 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 vabbè intorno non c'è niente vabbè vabbè vediamo un po' se è buono ma intorno vabbè vabbè guardate con l'erba che c'è ho trovato qua uno grosso perché è grosso è uno piccolo piovante perché c'era un pezzo di pioito che verde comunico una scusa che verde per gli animali che spandono soldi non tagliano niente le tagliano poi a costo come in realtà per gli ultimi due anni qua dovrebbe essere il terzo anno queste cagate qua ancora discreto non mi posso lamentare però se fosse pulito trovi piccolo e vabbè questo qui è quello piccolo che ho visto perché guarda c'è un pezzettino pulito guarda un po' le muscaglie per trovarli qua a quest'era poco alta bisognava che fossero alti come l'ombrellone da spiaggia vediamo un po' poi lo taglio adesso no eh dopo poca roba ecco perché non passate vedo l'italia è rotta l'ho fatto io vedo l'alto vedo l'alto c'è uno piccolo molliccio mettiamolo dentro ma guardate è un peccato trovare questa roba qui grossa così a me non so di questo guardate eh non va vediamo un po' com'è sembra duro sembra duro prendere potete seccare fare un altro non lo vedo da vicino anzi lo levo non lo so non sono sicuro ma infatti non lo è ragazzi questo sporco qui si trova non c'è anche un po' di culo eh guardate qua che poi non è neanche un sporcino ma va in culo ho visto in questo spot qua che ne hanno tagliati tanti io non li taglio mai qualcuno piccolo c'è però per me va bene per me i grossi ma mi servono più secco che oggi poca roba ma va bene così da qui a casa non riesco a pulire tanti non ce ne voglio per me l'ultima volta 8 kg che cazzo la vedo forse qualcun altro qualcuno me l'hanno tirato fuori rovesciato e lasciato lì e vabbè vediamo quello che c'è piccola ramena se qualcuno è piaciuto il video o sono piaciuti i video che ho fatto nel corso di qualche anno farebbe piacere volendosi volendo iscrivervi al mio canale si può sempre fare la retromarcia e iscriversi comunque ho pochi ho 62 diciamo follower mi piacerebbe arrivare a 100 a fine luglio se mi volete aiutare vi ringrazio altrimenti grazie allo stesso ciao va benissimo bene bellituri benissimo Se non lo piccolino, non neanche la pena raccogliere, qui, forse un altro, duro, duro, bello, sembra giovane, tiriamo via, c'è l'altriti da un dito da quella mano, quello che rompo sempre, guardate, bello. Li cuocerò ad induzione.